Buongiorno ragazzi e bentrovati. Ci presentiamo, siamo gli agenti della polizia locale di Reggio Emilia, in particolare io sono l'assistente D'Antonio Alessandro e io sono l'assistente scelto Antonio Pugliano. Ho detto io D'Antonio, Antonio? Sì, ma io sono Antonio e tu sei D'Antonio. Antonio alla vostra sinistra. D'Antonio alla vostra destra. Notate qualcosa di strano in noi? Direi di sì. Indossiamo le mascherine. Ma non notate qualcosa di strano intorno a voi? No, no. Ci manca il traffico. O forse ci manca... Uscire! Tanto, ma cosa sta succedendo? Succede che siamo in un momento particolare e delicato e non uscire potrebbe darci dei vantaggi. Meno smog, meno incidenti, meno inquinamento acustico e forse meno possibilità di ammalarci. Queste sono le regole. Al momento. Momento che sta per finire. Speriamo. E per questo torneremo ad essere padroni delle nostre strade. Ma visto che siamo rimasti in casa per tanto tempo, non vi sarete mica dimenticati le regole della strada? Speriamo. Ma siamo pronti a tornare sulle strade? Allora proviamo a ricordare le parti della strada. Allora, proviamo a chiederci com'è fatta una strada. Abbiamo una linea bianca che si chiama linea segna margine. Dall'altra parte della carreggiata troveremo un'altra linea bianca che delimita a questo punto la carreggiata. Al centro troviamo la linea di mezzeria continua o discontinua che divide la carreggiata in corsie. Quindi, in questo caso, abbiamo due corsie che delimitano la carreggiata. Ora, se fossimo a piedi saremo dei... Piedoni! Ma no, Ale, saremmo dei pedoni! Se invece fossimo in bicicletta saremmo... Bicioni! Ma no, Anto, saremmo dei ciclisti! E se fossimo in auto? Autisti! No, Ale, con calma. Autisti lo diventeremo. Intanto siamo dei passeggeri. A questo punto, visto che abbiamo capito la differenza tra pedoni, ciclisti e passeggeri, cerchiamo di capire anche come devono essere posizionati sulla strada. Il pedone, per muoversi sulla strada, deve obbligatoriamente utilizzare il marciapiede. E, Anto, se non ci fosse il marciapiede? Se non ci fosse il marciapiede, bisognerebbe usare la banchina. Anto, ma cos'è la banchina? E la banchina è quella parte esterna alla carreggiata. Quindi tutto quello che c'è dopo la linea bianca. Ma ragazzi, sappiamo anche come si utilizza? Beh, si utilizza in senso contrario a quello di marcia. In pratica dobbiamo fare in modo di vedere quello che succede davanti a noi. Adesso che abbiamo capito come utilizzare la strada per i pedoni, dobbiamo capire come funziona per le biciclette. In genere, le biciclette devono utilizzare la pista ciclabile, che è delimitata da una linea gialla. E, Anto, però dobbiamo anche spiegare, se non ci fosse la linea gialla, che cosa dovrebbero fare i nostri ragazzi? I nostri ragazzi dovrebbero tenersi sulla corsia di marcia utilizzata dagli altri veicoli, ma stando sempre il più possibile vicino al margine destro, e quindi vicini alla linea bianca. Ricapitolando, allora, il marciapiede e la banchina sono destinati ai pedoni, la pista ciclabile ai ciclisti, e le corsie agli altri veicoli. Quindi, chi sono gli altri veicoli? Beh, tanto sono le autovetture, le moto, i ciclomotori, gli autobus. Beh, anche le biciclette quando non c'è la pista ciclabile. Esatto. Antonio, però adesso abbiamo un problema. Un altro? E già, Antonio, adesso dobbiamo attraversare la strada, ma dobbiamo capire come farlo. Sappiamo che ci sono determinati tipologie di attraversamenti, quello ciclabile, quello pedonale o quello ciclopedonale, ma dobbiamo anche imparare a riconoscerli. Quindi partiamo dall'attraversamento pedonale, caratterizzato da una zebrotura, ovvero da delle strisce bianche di forma rettangolare. Questo attraversamento può essere utilizzato solo dai pedoni. E se siamo in bicicletta? Beh, se siamo in bicicletta abbiamo due possibilità. Abbiamo l'attraversamento ciclabile, caratterizzato da dei quadrati bianchi, distanziati tra loro, che ci stanno a indicare, appunto, che si può effettuare l'attraversamento solo in sella alla bicicletta. Altrimenti, l'altra alternativa è l'attraversamento ciclopedonale. Questo attraversamento ciclopedonale permette sia ai pedoni che alle biciclette di attraversare la carreggiata, in quanto abbiamo la presenza sia dei quadrati all'estremità che nella parte centrale dei rettangoli bianchi apposta per i pedoni. Ora, Antonio, ricapitolando, visto che si potrebbe fare confusione sulle tipologie di attraversamento, cerchiamo di capire. Questo, con i rettangoli bianchi, quindi è un attraversamento... Pedonale. Dove possono attraversare... I ciclisti? No, abbiamo detto che il pedonale è per i pedoni. Giusto? Questo, invece che l'attraversamento ciclopedonale, lo possiamo attraversare come? In bicicletta. Bravissimo. Però potremmo anche farlo a piedi. Mentre l'attraversamento ciclabile, ovvero quello con i quadrati bianchi distanziati tra loro, è possibile attraversarlo... A piedi? No, in bicicletta. Scusa, scusa, faccio confusione. Allora, ripartiamo. Allora, ripartiamo. Attraversamento pedonale per? I pedoni. Perfetto. Attraversamento ciclopedonale per? Pedoni e biciclette. Perfetto. Attraversamento ciclabile? Solo per le biciclette. Ok, adesso ho capito. Spero anche voi. Speriamo! Ora, se ricordate, all'inizio abbiamo scherzato su sinistra e destra. Antonio a sinistra. Antonio a destra. Ok, ricordate bene, sinistra e destra ci serve per imparare ad attraversare correttamente, perché attraversare potrebbe diventare un problema. Un altro? E certo! Anche perché, se vogliamo attraversare in sicurezza, dobbiamo imparare ad utilizzare una regola non scritta, ma di buon senso. Ovvero quale? La regola dei quattro sguardi. E chi guardi? Ma no, è che prima di attraversare dobbiamo assicurarci di non correre pericoli, perché sulle strade ci sono molte persone distratte. Quindi Antonio vuoi dirmi che una volta che abbiamo individuato il nostro attraversamento, arriviamo in prossimità dello stesso e ci dobbiamo fermare? Direi di sì. Proviamo a capire qual è la regola dei quattro sguardi. Quindi, arrivo in corrispondenza dell'attraversamento, ho davanti a me l'attraversamento, mi fermo e guardo a sinistra, ma resto fermo. E dopo guardo a destra, ma resto ancora fermo. Quando sono certo che i veicoli che provengono dalla mia sinistra e dalla mia destra si sono fermati, allora sì che posso iniziare ad attraversare. Inizio lentamente ad attraversare, ma guardando ancora a sinistra, e quando sono al centro della carreggiata guardo a destra e termino l'attraversamento. Mi raccomando, il tutto senza correre. Ricordiamoci che l'attenzione sulla strada non è mai abbastanza. I pericoli sono sempre vicini a noi, perché vicino a noi ci sono sempre delle persone distratte. Ale, cosa fai? Oh, ah scusami. Ecco, lui è distratto. Mi raccomando, ricordatevi che queste regole per attraversare la strada valgono anche per chi va in bicicletta. Comunque, tutto questo lo rivedremo meglio nelle prossime lezioni. Ora, prima di lasciarvi e di darvi un saluto, sperando di poterci poi rivedere al più presto in classe, Speriamo! Vi daremo la possibilità di ripassare tutto quello che ci siamo detti attraverso un link che verrà fornito alle vostre maestre. Cliccando su questo link potrete accedere a una foto reale di una situazione stradale dove vi appariranno delle icone. Cliccando su di esse scoprirete che cosa serviranno. A questo punto ragazzi, alla prossima lezione! Grazie a tutti!